Se non fosse per le mie origini indigene, non farei questo, non dipingerei, non andrei a caccia, non farei tutte quelle cose che faccio oggi. Come ti senti? Più aborigeno, asiatico? In me convivono entrambe le componenti, ma mi sento sicuramente più aborigeno. Ecco, avete visto questa pittura? Questa pittura a differenza è una pittura che vede dentro, una pittura radiografica, è come una radiografia, a differenza della pittura che faccio io. Però ecco, questa per esempio, l'ho scoperto in questo momento, è una pittura radiografica, questa è una pittura dentro, qui si vede la spina del pesce, in questa forma tribale quasi indiana, però è una pittura radiografica.